E' iniziato in piazza 20 Settembre a Pordenone il mercato europeo. Più di 100 commercianti provenienti da diverse nazioni d'Europa propongono le loro tipiche specialità che vanno dagli alimentari ai dolciumi di vari paesi, dalle birre internazionali all'abbigliamento, giocattoli, ceramiche e molti altri prodotti. L'assessore comunale al commercio Bruno Zille. In questi giorni Pordenone sta vivendo un momento particolare, un momento internazionale. Stiamo aspettando il mercato europeo. Questa è un'iniziativa che per la prima volta è portata qua a Pordenone. Questo serve come rilancio per quanto riguarda gli aspetti dell'economia cittadina e in particolar modo per quanto riguarda il mercato ambulante. E' un momento di festa, un momento di colori. Ci troveremo soprattutto al centro di iniziative di carattere enogastronomico e quindi sarà un momento piacevole per tutti i cittadini. Quindi l'auspicio è che ci sia la massima partecipazione, anzi un invito. Credo che sia una novità per quanto riguarda la nostra città, poter apprezzare questa iniziativa che è stata ampiamente apprezzata anche in altre città italiane. In questi tre giorni, sia per quanto riguarda il venerdì, il sabato o la domenica, la giornata del sabato o la giornata della domenica si aggiungerà al mercato cittadino e quindi sarà un grande mercato, proprio per poter rilanciare, come dicevo, le attività degli ambulanti. Invito tutti i cittadini di partecipare a questa iniziativa. Ripeto, è un'iniziativa di festa e una iniziativa di tipo enogastronomico. Avremo anche tanti operatori, avremo le birre europee, avremo tantissime cose per cui Pordenone sarà per tre giorni il centro di una sorta di Oktoberfest tutto pordenonese.